Giusto questo qua per fare chiarezza, scusatemi, è un video giusto per fare chiarezza. Nello short mi avevo detto questo, che nel camerino sarebbero volate anche delle parole grosse. Cioè non è la boccia che ha detto, che ha chiesto anzi alla Berlinguer, ma per caso mi stai riprendendo? È il contrario, quello avrebbe fatto saltare in banco. Ecco, la sfiducia nei confronti alla Berlinguer da parte della boccia, secondo la sua ricostruzione. Cioè, è la Berlinguer, va nel camerino, blocco 1, blocco 2, così eccola, già non siamo tanto d'accordo su sto blocco 2, dice la boccia, e poi a un certo punto boccia fa, ma non è che per caso mi sta riprendendo? È la Berlinguer, fa, scusatemi, ecco, ci stavo ricascando, a bestia a voi, in alto insieme per i 100 iscriviti, attivate la campanella per ogni aggiornamento del canale, di cuore, grazie a ognuno di voi, e la Berlinguer che ha chiesto la boccia, visto appunto la Camera dei Deputati e altri audio rubati, ok, memorizzati dalla boccia, a domandare a lei, scusa per caso mi stai riprendendo? La boccia li fa pure, oh ma per chi mi hai preso, scusami? Mi ti ho preso, per ora che sta scotterando un putiferio con immagini che non potevi prendere della Camera dei Deputati, che non potevi registrare della Camera dei Deputati, poi figuriamoci a pubblicarle, poi anche audio, telefonate, per chi mi prendi? Questa sarebbe la ricostruzione, no? E poi, cosa ben più grave, secondo la boccia, guarda che mi hanno bloccato due ore in camerino, fin quando non sei riuscita fuori, ma io non volevo parlare di gossip, volevano incentrare appunto tutto sul gossip, più che sulla verità, ma comunque figlia mia, tu guarda che hai voluto questa roba, forse non ti aspettavi un clamore del genere, non credo proprio, oppure lo stai facendo apposta, perché ieri sera a caldo non hai detto una parola, hai fatto bene, perché hai voluto far passare tempo, e di solito te rispondi in una maniera così troppo diretta, bugiarda dei miei stivali, sì, avete sentito bene, per me è una gran bugiarda, e io non vado a difendere solo San Giuliano, perché non c'è niente da difendere, è un pollo, un ingenuo, meglio che non sia più un Ministero della Cultura, e non sono promeloni, cacchiarola, ma questa è una rivista che io non ho mai visto in tutta la mia vita, ribadisco, non è boccia che ha chiesto a Beringuer se se stai riprendendo, ma è il contrario, la Beringuer chiede alla boccia, ma che mi stai riprendendo, per caso non voglio finire i guai, cioè, è un casino veramente, con tante ricostruzioni, ma le parole sono sue, due ore chiusa in camerino, in ostaggio, oh, a vittima dei miei stivali, ma da due cacchiose è uscita, ma vuoi ritornare nel tuo loculo, eh? Ma non ti senti ridicola? ditemi la vostra nei commenti, ma guarda che c'è centagli in giro, ragazzi, stiamoci sempre più attenti, eh, tra donne e uomini, hanno cervelli veramente peggio dei cocomeri, che non ce l'hanno appunto.